camora la vacca mora che dà il camin la su piafora bronce calde e fumo nero come il culo del caldiero ma con la tecnica del pacchetto il calo armato il riembelonetto con la tecnica del pacchetto lo teniti fuori e scarpe sberrà dove si è andata dove si è andata poi ci va a vedere se le casca dove si è andata dove si è andata le vie da me giurano le pittorie grazie a tutti